Uno dei compiti dell'agricoltura è quello di tutelare e salvaguardare la natura e le sue risorse come per esempio le specie in via di estinzione. Per questo siamo nella marca trevigiana dove nel piccolo borgo di San Bartolomeo di Breda conosciamo la giovane Joyce Javeri che insieme alla famiglia gestisce un'azienda per la produzione di caviale allevando storioni in maniera sostenibile e contribuendo anche a portare il made in Italy di lusso nel mondo. Joyce Javeri, 32 anni, insieme ai genitori e alle sorelle Jenny e Giada seguono l'intera filiera dalla nascita dello storione alla commercializzazione del caviale. Tutto è iniziato negli anni 80 quando il papà Rodolfo introduce degli esemplari di storione in un sistema di acquacoltura, oggi all'avanguardia in termini tecnologici e di sostenibilità. L'azienda a conduzione familiare coinvolge 15 collaboratori e con la sua attività contribuisce a portare il made in Italy di qualità nel mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La vostra azienda Joyce ha una storia di 40 anni. Tutto è nato da tuo papà che era esperto in allevamento di storioni. Come è nata quest'idea in questa zona? Era una zona avvocata? Sì, la nostra piscicoltura nasce in zona di acqua di Risorgiva. Utilizziamo acqua del fiume Piave e del piccolo fiume che passa qui nel nostro paesino che è il fiume Meolo. Partiamo dal presupposto che l'ostorione in natura non esiste più. Sono più di 20 anni che esiste la Convenzione di Washington che tutela e vieta la commercializzazione di caviale selvaggio. Suggeriamo sempre il caviale di allevamento anche perché in commercio praticamente troviamo solo caviale di allevamento perché in allevamento c'è una filiera controllata e sostenibile. Quante uova produce mediamente un'ostorione? Circa un 10% del peso. Fondamentalmente gli esemplari vanno dai 3 kg e possono arrivare anche i 70-80 kg anche i 120 in cattività. Il benessere dell'animale è determinato quindi dall'acqua, dall'habitat e ovviamente dall'alimentazione. L'alimentazione è seguita dalla Z. Scegliamo per i nostri storioni le migliori materie prime in Europa, farine di cereali o farine di oli di pesce ma soprattutto stiamo molto attenti a che non contengano farine di origine suina o bovina. Come viene invece controllata la salute degli storioni? Cioè ci sono anche dei controlli da parte di esperti? Assolutamente, abbiamo dei veterinari esterni, abbiamo l'azienda ULS che regolarmente viene a controllare, facciamo dei regolari controlli mensili sulle acque, sulle ossigenazioni, sulle temperature dell'acqua e soprattutto noi comunque usufruiamo di acque molto pulite già di natura. Joyce, una delle fasi importanti della vita dello storione naturalmente qui in azienda è la maturità della femmina. Quando avviene, come funziona il suo ciclo e come la monitorate? Viene fatto tutto tramite un'ecografia, si usa un ecografo umano, un vero e proprio ecografo e partiamo nei primi anni, si fa il sessaggio, cioè si dividono i maschi e le femmine, le femmine rimangono nel nostro parco storioni e i maschi vengono venduti ad altri elevatori. E poi abbiamo sempre con l'ecografo, facciamo anche il riconoscimento della femmina da caviale o la femmina che non è pronta da caviale, quindi facciamo l'ecografia e riconosciamo attraverso l'ecografia se il grano è grande, piccolo, il colore, vediamo, ovviamente non si vede esatto, se è pronto in pratica, se è pronto da portare nelle nostre tavole.